Salve a tutti i leggendari e bentornati su The Legends of Jimmy! Prima di ogni cosa, come al solito, vi ricordo di venirci a seguire sulla pagina telegram Fenix Dragon Ball Legends dove vi potrete far aiutare su tutto quello che riguarda appunto il gioco Ma non solo, questo è un video collaborazione con un appunto delle pagine con cui collaboro Che trovate sempre all'interno delle descrizioni dei video di Youtube Ed è un video collaborazione con il gruppo telegram LV, Legendary Warriors Quindi ragazzi, mi raccomando, entrate in entrambi i gruppi perché tanto siamo in collaborazione Siamo tra di noi comunque in ottimi rapporti Quindi mi raccomando, Fenix Dragon Ball Legends e LV, Legendary Warriors Mi raccomando, andiamo oggi a parlare della nuova team list Per quale motivo? Perché i personaggi che sono usciti nell'ultima step up Sono dei personaggi fantastici che danno vita a un nuovo vero e proprio team Meta team, un team bestiale all'interno appunto del meta attuale del gioco Che è in grado praticamente di distruggere tutto quello che trova davanti Soprattutto quando il team è composto realmente da tre personaggi in particolare Quindi questa team list, ho aspettato un po' per farla E andremo a fare appunto un video in cui parliamo della team list fatta da PX Quindi Fenix, è una team list fatta da LV Quindi cominciamo subito Rispetto all'ultimo video team list che ho fatto Cercherò di essere un po' più veloce, un po' più concreto E analizzare soltanto i team che secondo me sono quelli un po' più Diciamo gestibili al momento Un po' più frequenti da trovare Sia contro che per poter utilizzare Allora, torniamo sempre sul solito Super Saiyan Non li vediamo in ordine dal migliore al peggiore Insomma, come li troviamo nell'immagine, ne parliamo Super Saiyan Super Saiyan è un team che ancora continua ad essere molto utilizzato Perché ormai Bardak e Super Saiyan anche con l'arrivo del Master Pack 2 Ce l'hanno ormai quasi tutte le persone E come vediamo il Super Saiyan può essere utilizzato praticamente Con una enorme varietà di personaggi Possiamo usare Bardak che è obbligatorio Grazie ai suoi buff che dà quando si switcha Poi possiamo utilizzare Kale Anche Broly Super Saiyan Secondo me è un personaggio molto molto importante Ma si può utilizzare anche un eventuale Gogeta Super Saiyan Il nuovo Broly Verde Anche Goku Bambino GT Che, diciamo, come vediamo anche sotto nella leggenda Il PG può essere giocato come main Quindi sia lui che anche Vegeta GT possono essere utilizzati come personaggi E infatti io utilizzo magari alle volte Bardak, Goku GT e Broly Oppure Bardak, Goku GT e Gogeta Insomma, dipende anche dalle partite Regeneration attualmente insieme al Song Family Il team più forte del gioco Lo è già da un po' da quando è uscito la step up con Cell Il personaggio obbligatorio come vediamo anche dalla leggenda è Cell Che non ci sono più parole per descrivere il suo personaggio Insieme a Zamasu è Super Boo Come personaggi giocabili ci sono anche Che vengono preferiti anche come main Sia Piccolo Verde che Slug Perché Piccolo Verde è comunque un tank tuttora bestiale Uno dei pochi tank nei confronti di Librian Quindi uno dei pochi counter di Librian E Slug Che è comunque un personaggio veramente veramente forte Il team lo vedete com'è fatto All'occorrenza si può utilizzare anche eventualmente Evil Boo Extreme Che è un personaggio davvero, ragazzi Potrebbe sembrare un Extreme scarsissima Se ve lo trovate contro vedete che è un dito che non si può dire E insomma Movie Saiyan Movie Saiyan anche questo è un team che può prevedere l'utilizzo di un botto di personaggi In questo caso possiamo andare a utilizzare Broly Super Saiyan e Gogeta Come personaggi obbligatori E poi Broly Free to Play obbligatorio a 7 stelle Ma anche qualsiasi altro tipo di movie presente in questa lista Ad esempio Gogeta Quindi Vegeta Super Saiyan God Tarles Che è appunto, ne abbiamo parlato tempo fa Fortissimo il bilanciamento Anche il nuovo Broly Verde Che assolutamente non è per niente male Ma poi se avete anche altre alternative Si possono vedere anche altre alternative Però l'importante è avere Gogeta e Broly Il Future Ragazzi il Future è un team un po' sottovalutato spesso Ma è un team mostruoso Anche perché presenta due dei Regeneration più forti E più OP Zamasu e Cell Poi Mei Mei ragazzi è tuttora un mostro Quindi il team presenta praticamente Sono obbligatori quei tre personaggi Ma non avendo magari Mei o Zamasu Si possono comunque giocare Si può comunque giocare anche Trunks Viola Extreme Che è molto molto forte come personaggio Andiamo avanti E andiamo a vedere il Son Family Il Son Family il team attualmente Se non il più forte Il secondo più forte ha pari merito insieme al Regeneration Quindi non è al secondo posto Son Family con i tre nuovi che sono appena usciti Consigliabile ovviamente creare un team Fatto di soli tre personaggi che sono appena usciti Quindi Goten Goku Super Saiyan E Gohan Super Saiyan Con Gohan che è un defense mostruoso Con i danni anche che fa Goku che praticamente fa il Future Gohan della situazione Cioè dà un botto di buff E soprattutto anche quando muore Riesce a potenziare criticamente il team In maniera pazzesca Ma si può giocare anche al posto di Goku O volendo anche al posto di Gohan Però si perdono molti buff No perché è un Gohan comunque Quindi niente scherzavo Al posto di Goku Anche al posto di Gohan Si può utilizzare Gohan Super Saiyan 2 Ragazzi Infatti io Quando ho consigliato Di pullare o meno Ho subito detto Se avete Gohan Super Saiyan 2 A mio avviso Quindi ancora prima che uscisse la batch Secondo me Bisogna pullare Sono usciti i personaggi E secondo me Chi ha Gohan Super Saiyan 2 Deve assolutamente pullare Io purtroppo ho provato a cercarlo Se l'avessi trovato Sarei andato avanti col pull Senza Gohan Super Saiyan 2 Ho preferito evitare Gli altri due personaggi Hanno necessariamente bisogno di stelle Possono essere Ultimate Gohan Che si potrebbe a quel punto anche utilizzare Essendo un personaggio verde Che ci dà il rainbow Oppure anche Goku Kaioken Che però è preferibile non utilizzarlo Ma usarlo solo come booster Anche Pan come booster eventualmente Oppure Gohan Extreme C'è anche comunque sempre Un team GodKey Dove per GodKey Intendiamo appunto I personaggi con il tag GodKey Perché sennò Di che stiamo a parlare Vegeta Super Saiyan God Goku Super Saiyan God E Beerus Beerus Ragazzi Se lo avete Necessita A mio avviso Assolutamente Del suo equipaggiamento Nero Che si trova Nel Che si trova Nel Nell'evento Del Perfect Sail Game E quando sbloccheranno I prossimi livelli Dell'evento di Broly Si potrà trovare E bisogna utilizzarlo per forza Per rendere Beerus Quanto meno Molto più giocabile Rispetto ad adesso E in più Poi vedete I booster come personaggi Con Tensina Che può boostare colore Yamcha che va a boostare Doppio verde E soprattutto a 5 stelle E poi Goku e Radish Per i due Saiyan Andiamo avanti E andiamo a vedere Un team che può essere Molto interessante Che è magari L'Immortal Anti-Regeneration Con Mei Zamasu E Rildo Rildo è obbligatorio Per creare Per fare in modo Che ci possa essere Magari il blocco Alla rinascita Ma soprattutto Di Zamasu Ma soprattutto Il botto Di 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 buff Che riesce Di debuff Che riesce a creare Ed è un team Che potrebbe dare davvero Molte soddisfazioni In PvP Perché ragazzi Rildo Da giocarci Giocarci contro È molto 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 Scomodo Un altro team Che secondo me Non fa parte Dei Non fa parte Non combatte Proprio alla pari Con Regeneration E con il Sonfameli Ma ragazzi Fidatevi che Con l'arrivo di Ribrian Il Femel È diventato Mostruoso Ribrian Assoluta titolare Se no Si perde May E Caulifla Io me lo gioco Con Ribrian May E Cale E Caulifla Dipende Poi dall'avversario Metto Caulifla Ok Ma May E Ribrian Per me Sono fissi Poi si possono usare Anche Videl Anche Kiki Ma anche Greciaia Men 2 Cioè Videl E Bulma Extreme Che è comunque Un personaggio Davvero interessante Andando poi A vedere Gli altri Gli altri team Vediamo sempre Il lineage of evil Che non è cambiato Più di tanto Se non per l'arrivo Di Metal Cooler Che può essere utilizzato Tranquillamente Come personaggio Main Quindi come personaggio Principale E magari possiamo andare A togliere Cooler Verde Perché comunque Freezer Giallo Fa sempre degli ottimi Ottimi danni Cooler Final Four Quindi Cooler Blue È fondamentale Per creare un lineage of evil Se no A mio avviso Non ha senso Di esistere questo team Per quanto riguarda Il team Hybrid Saiyan Lo lasciamo per il momento Perdere perché Abbiamo parlato molto Del Son Family E per l'Hybrid Saiyan Un Hybrid Saiyan Competitivo Attualmente C'è necessariamente Bisogno di un Gohan Super Saiyan 2 Ragazzo E se non sia Goten Che comunque sarebbe Una grande mancanza Presenza di doppia Legendary Finish Si deve avere almeno Un Gohan Blue Quello che è appena uscito Dalla Family Kamenameha Se no È abbastanza difficile È un team Davvero molto Complicato da fare Esattamente come il Son Family A meno che non buttiate Un botto di Crono Android L'Android È un team Che necessita di tanta roba Però potrebbe essere Molto interessante Giocarlo con C18 e C17 Stella E quelli Extreme Nuovi ovviamente Più nuovi Delle versioni SP Giocati con Stelle un po' più grandi Più Un quantitativo di stelle Maggiore Più stelle si hanno Per quei personaggi E sicuramente meglio è Ragazzi anche questo È un team interessante Anche se sono due Extreme Fidatevi che può dare Filo da torcere Per quanto riguarda poi L'ultimo team Che andiamo a vedere Della Team List PX Per sbrigarci Cercare di rendere il video Più breve possibile È il Fusion Il Fusion Con l'arrivo di Gotenks Super Saiyan 3 Sicuramente Può dire maggiormente La sua rispetto a prima E il team Potrebbe essere composto Da Gogeta E Gotenks Super Saiyan 3 Per forza Quindi non potrebbe Deve essere composto A loro due Se non ci sono almeno Uno dei due È veramente impossibile Attualmente fare un team fusion Se non con gente Un po' così E si può giocare Sia Gotenks Quello farmabile Della Rod Sia Gogeta Super Saiyan Rosso Che ha perso Molto smalto nel tempo Che anche Gotenks Viola Ma appena vi toccano Gotenks Viola Ragazzi Siete fritti Passiamo adesso invece Cambiamo schermata E andiamo a vedere Invece La Team List Fatta dagli LV Per quanto riguarda La Team List Andiamo a vedere che In questo caso Quando il riquadro È acceso Il riquadro che vedete Acceso Sono personaggi Giocabili Che possono essere utilizzati Sia come boost Ma all'occorrenza Se vediamo che l'avversario Ha dei colori svantaggiati Avvantaggiati Nei nostri confronti E quindi ci vogliamo difendere E conterare quei personaggi Possiamo utilizzarli I personaggi invece Spenti Sono quei personaggi Che servono solo come boost Quindi ad esempio Se noi ci portiamo come booster Demon King piccolo Non ci sogniamo di portarlo Perché non è un personaggio Purtroppo competitivo Anche in questo caso Regeneration Con Cell Slug Zamasu Ma in questo caso Si può giocare anche Eventualmente Un Metal Cooler Volendo Se si ha Se c'è la mancanza Di Zamasu Io preferirei a quel punto Come rosso Sempre Zamasu Rispetto a Metal Cooler Ma Metal Cooler È un personaggio interessante Si può giocare Assolutamente Anche lui Il principio Non cambia più di tanto Come vedete Si può utilizzare Si possono utilizzare Piccolo Super Buu E Demon King piccolo Come booster Oppure si possono utilizzare Anche Cell E Fat Buu Insomma Le scelte ormai Con Regeneration Sono davvero tante Il Future Principalmente Rimane anche in questo caso Lo stesso Cioè Zamasu Mei E Cell Sono tre personaggi Imprescindibili Per questo Team Future O almeno Mei e Cell Secondo me Sono imprescindibili Poi all'occorrenza Si può utilizzare anche Il Trunks Della Rod Quello Free to Play O comunque Anche Trunks Extreme Viola Che è un anti-regen Ed è davvero Molto interessante Soprattutto anche in questo caso Essendo un Extreme Quando le stelle Iniziano ad aumentare Come booster Vediamo che possono essere utilizzati Anche Super Trunks Volendo Gohan del futuro Ma solo Esclusivamente come booster Trunks del futuro E Black A mio avviso Sono personaggi che Hanno perso anche in questo caso Molto smalto E quindi difficilmente utilizzabili Per quanto riguarda invece Il Super Saiyan Anche qui Vediamo sempre Un Bardak Che come vediamo dal lucchetto Un personaggio fisso Che è imprescindibile Deve essere usato lui Nel Team Super Saiyan Con Broly Verde E Broly Super Saiyan Ma volendo Si può mettere anche Kale E Gogeta Come vediamo Tutti gli altri personaggi sotto Sono soltanto Esclusivamente dei booster Per quanto riguarda il Team Movie Team Movie In questo caso Prevede Gogeta Super Saiyan Broly E Broly Super Saiyan Sono tutte e due Super Saiyan Uno è verde E uno è viola Come vedete I tre main Messi in schermata Sono identici al Super Saiyan Tranne che per Bardak E per Gogeta Qui stiamo facendo un Movie Quindi solo personaggi film E possiamo andare a inserire Anche Metal Cooler Possiamo inserire Vegeta Super Saiyan God Insomma Tanti personaggi Ma comunque Con il nuovo Broly E Gogeta ragazzi Fidatevi che fa Veramente scintille Come Team Veniamo anche in questo caso A Zone Family Goku Nuovo Gohan Nuovo E Goten Nuovi Non ci stanno altre scelte ragazzi Cioè non ci sta Nient'altro Però Si può utilizzare Volendo anche Goku GT Bambino Perché Goku GT Rimane tuttora Un personaggio Assolutamente Assolutamente valido Si può giocare anche Eventualmente In questo caso Qui vediamo Che può essere utilizzato Un Goku Kaioken Deve essere stellato Quindi a 5 stelle Tuttavia ragazzi Se noi abbiamo Un Gohan Super Saiyan 2 Goku Kaioken A mio avviso Non so quanto Lo utilizzerei mai Non ce la farei mai Con Gohan Super Saiyan 2 E con quegli altri personaggi Nel Son Family Più personaggi si hanno E veramente Più fa danni Female Warrior Anche in questo caso Vediamo Ribrian Vediamo Caulifla Vediamo Great Saiyan 2 Great Saiyan 2 Un buon personaggio Che però a me Non ha mai convinto Come può convincere Magari l'utilizzo Di una Kale In determinate battaglie In determinati scontri C'è anche C'è anche Mei Che può essere utilizzata Come main Personaggio main Quindi principale Mei main Insomma E viene consigliata stellata Perché ovviamente Lei boosta le Femel Dalla quinta stella Visto che sotto la quinta stella Boosta i Future Dalla quinta Boosta Femel E Future insieme Ragazzi Anche in questo caso Abbiamo tante scelte Si può utilizzare anche Pan Volendo Kiki Insomma Dipende anche dai personaggi Per quanto riguarda invece Il lineaggio vivola Anche in questo caso E sono imprescindibili Cooler sicuramente Volendo anche Freezer Freezer ormai Quasi tutti C'è qualcuno che comunque Non l'ha ancora trovato Ma quasi tutti ormai Hanno trovato Freezer Questo nuovo C'è Freezer Quello giallo E Metal Cooler È un personaggio Che in questo team Gira veramente 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 Molto bene Per il team hybrid Stesso discorso Vediamo l'inserimento Di Great Saiyan 1 Sono fondamentali Ovviamente Gohan Super Saiyan 2 E Ultimate Gohan Ma comunque Anche il team hybrid Può essere gestito Mettendo volendo Anche un Goten Super Saiyan 3 Che necessariamente Per dare un maggiore boost Deve essere stellato A 5 stelle Ma possiamo mettere Anche volendo Una Possiamo mettere Volendo anche Una pan In realtà Si può giocare anche Si può giocare anche A quel punto Con Con Goten Come personaggio Viola Ma insomma L'hybrid Attualmente Con il nuovo Gohan Super Saiyan Quello blu Con il nuovo Goten Lo possiamo giocare In tantissimi modi Team Fusion Team Fusion Gogetta Super Saiyan Goten Super Saiyan 3 E Gogetta Super Saiyan Blu Insomma Rosso Blu Entrambi sono Super Saiyan E sono tre personaggi Come abbiamo visto prima Nel caso di Gogetta Super Saiyan Di colore blu E Gogetta Super Saiyan 3 Imprescindibili Anche in questo caso Gogetta è molto consigliato Perché comunque Sia Goten Super Saiyan Viola Che può essere giocato Ma è molto 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 Sottotono Sia Goten Sverde Comunque sono due personaggi Non consigliati Da giocare Infine Androidi Stesso discorso Della team list precedente Così come il Gotki Che può prevedere L'utilizzo eventualmente Di Zamasu Come personaggio Infine Menzione d'onore Per il Frieza Force Che ormai Non sarà praticamente Quasi più utilizzato Da nessuno Con Freezer Giallo Giniu E Vegeta Verde E il Saiyan Offense Che prevede sempre L'utilizzo di personaggi Molto forti Dal punto di vista Di danni Di danni offensivi Ragazzi Cosa dire Sono team list Davvero molto interessanti E Vi posso dire assolutamente Che in questo momento I tre team A mio avviso Tolti i doppioni Quindi tolti magari Regeneration con Future Eccetera eccetera Tolti i doppioni Di personaggi Per me I tre team Più forti Del gioco Ma è un mio E un mio parere Sono Regeneration Il Son Family E il Family Warrior Grazie a Ribrian Che è veramente Un dio di personaggio Per quanto riguarda quindi Ma anche Mei Volendo Per quanto riguarda poi Anche se vogliamo L'utilizzo di Broly Ci può essere tranquillamente Un Super Saiyan Con Bardak Goku GT E Broly Ma secondo me Gli sta un pochino sotto Volendo il movie Con Broly nuovo Quello verde E Broly Super Saiyan Comunque Questi tre team Che vi ho detto Per me attualmente Sono i team Più forti del gioco E probabilmente Il Son Femini Ha ribaltato Totalmente Tutto quanto Per quanto riguarda Il Meta Team Fatemi sapere ragazzi Cosa ne pensate Di questi team list Che team state usando E secondo voi Qual è il più forte Ciao ragazzi